Ciao ragazzi, bentornati al Nerd Kitchen! Questa è una puntata speciale dedicata alle feste natrizie e realizzeremo una torta molto particolare. Sarà un'idea carina per le vostre composizioni che potete sfruttare anche con diversi soggetti. La torta di oggi è ispirata a una torta che a me piace tantissimo e che ho visto sul web che è la torta Charmander. La realizzeremo in maniera un po' diversa e particolare per agevolarvi nel caso volesse riprodurla. Augurandovi di passare buone feste, cominciamo subito con la ricetta! Per la nostra torta di base gli ingredienti di oggi sono 150 g di cioccolato fondente sminuzzato 250 g di burro 250 ml di latte intero 100 g di cacao maripolvere 2 uova grandi 1 bustina di lievito per dolci 350 g di zucchero semolato 200 g di farina setacciata 300 g di pasta 500 g di cioccolato bianco 500 ml di panna fresca liquida 500 ml di panna fresca 600 g di zucchero a pelo 250 g di burro 1 filetta di estratto di maniglia 2 cucchiai di latte caldo 2-3 cucchiai di nutella Ricetta numero 1, la Mud Cake. La Mud Cake è una torta al cioccolato molto gustosa, ma potete sostituirla con il pan di spagna che preferite. Per prima cosa sciogliete un pentolino, il latte, lo zucchero e il burro a fuoco basso, dopodiché aggiungete il cioccolato in scaglie e fatelo sciogliere. Una volta che tutto è stato sciolto, mettete in frigo e lasciate raffreddare per bene. Dopodiché aggiungete a questo composto la farina e il cacao poco alla volta, le uova e il lievito. Questo impasto basterà per circa 3 teie da 20 cm in diametro. Non lieviterà tanto in forno, ma avrete almeno gli strati già pronti per essere farciti con la crema. In fornato adesso, in forno preriscaldato per 25-30 minuti a 175-180 gradi. Ricetta numero 2, ganasche al cioccolato bianco. La ganasche è semplicissima a preparare e buonissima. Mettete in un pentolino la panna e lasciatela bollire. Quando sta proprio arrivando l'epolizione, aggiungete il cioccolato in scaglie, sciogliete per bene e mettete in frigo a riposare. Quando la ganasche sarà bella fredda, potrete montarla con le fruste elettriche. Ricetta numero 3, crema di burro e nutella. Per fare questa crema di burro, unite in una ciotola il burro e la vaniglia. Mescolate per bene, unite lo zucchero, frullate fino ad ottenere una consistenza spumosa e infine aggiungete il latte caldo per aiutarla a sciogliere. Ultima e importantissima, la nutella. Potete aggiungere 2-3 o più cucchiai in base ai vostri gusti. Dopodiché lasciate riposare a più in perdura ambiente fin quando la useremo per rivestire il tutto. Per la ricetta dei rice crispies ci servono 70 grammi di miele, 70 grammi di nutella e 70 grammi di zucchero, 100 grammi di riso soffiato e crisco, burro o margarina per modellare meglio la pasta. Quanta e ultima ricetta perché oggi esageriamo. Per realizzare questa buonissima pasta e cereali, mettete sul fuoco lo zucchero e il miele e fateli riscaldare insieme ma senza farli bollire. A questo punto aggiungiate la nutella in maniera che sia ben sciolta e amalgamate il tutto. Versate il composto di nutella, miele e zucchero sui cereali e amalgamate per bene. Quando ci sono raffreddati un po', mettetevi sulla carta forno e modellateli. Per non farle appiccicare le mani, sporcatele con del crisco, del burro o della margarina. Una volta raffreddati, i rice crispies manterranno la forma che avete scelto. A questo punto possiamo modellare il Charmander che andrà sulla torta. Fatelo finché i rice crispies sono tiepidi. Io per non sbagliare le dimensioni ho tracciato il diametro della mia teglia sulla carta forno. Una volta raffreddati i rice crispies possono essere ricoperti con la crema di burro. Quindi con una spatola o un coltello ricoprite per bene i Charmander e poi mettetelo in frigo giusto il tempo di far rassodare la crema di burro. Dopodichè passeremo alla copertura in pasta di zucchero. Nel frattempo con la stessa pasta delle rice crispies ho realizzato anche delle rocce che andremo a mettere intorno alla torta. Montate la torta, rivestite con la crema di burro, lasciatela affreddare in frigo per un'oretta e infine coprite il tutto con la pasta di zucchero. Montate la torta, rivestite con la crema di burro. Mentre la torta la fredda in frigo e la crema di burro indurisce, possiamo rivestire Charmander con la pasta di zucchero. Preparate quindi la pasta di zucchero arancione, stendetela per bene e poggiatela facendola aderire a tutte le sue forme. Per la punta della coda abbiamo ricavato da delle candele questo stoppino che servirà a far accendere la fiammella di Charmander. Ricordate ovviamente di non mangiare questo piccolo pezzettino del Pokémon. Ricordate! Stessa cosa per la torta, applichiamo le rocce alla nostra torta aiutandovi con un po' di Nutella e rivestiamo con la pasta di zucchero grigia, dopodiché applichiamo Charmander in cima e la torta è finita. La nostra Charmander cake è finita! Speriamo che questo speciale di Natale vi sia piaciuto, vi auguriamo buone feste e continuate a seguire il nostro canale! A presto!